Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo tutorial ti spiego come risolvere il problema riguardo al VGC TPM 2.0, il security boot e riguardo anche ai servizi di ottimizzazione su Valorant. Ovviamente sono le quattro parti più fondamentali per risolvere il problema all'avvio. Ovviamente se aprite Valorant e vi esce l'errore 1067 c'è questo problema riguardo al VGC che è disattivato. VGC disattivato oppure il TPM 2.0 che si sta aprendo Valorant ma c'è la schedina che il TPM 2.0 è disattivato ma assieme a questo esce pure il security boot e poi una volta fatto dobbiamo solamente risolvere vari problemi riguardo alle ottimizzazioni su Valorant. Quindi faremo solamente questo in questo tutorial. Quindi in questo caso per cominciare andiamo un attimo su servizi, servizi eccolo qua. Scendi fino a giù fino a trovare il servizio VGC. Ovviamente non hai questo VGC perché non hai attivo il TPM 2.0 o il security boot. Però quindi quando attiverai il security boot sul BIOS uscirà questo servizio, noi ci clicchiamo sopra e dobbiamo solamente mettere il tipo di avvio automatico e sta già in esecuzione. Se non dovesse andare fai interrompi e fai avvia di nuovo e poi riavvia il tuo sistema operativo. Una volta fatto, quello che ti resta da fare è andare sul BIOS. Ovviamente ti guiderò io stesso su una vecchia guida che ho realizzato in passato. Quindi in questo caso io adesso riavvio il sistema operativo e devo cliccare il tasto che ti dice di entrare nel BIOS. Quindi a me è F12 Canch. Quindi premi uno di questi due tasti e ti fa così entrare nel BIOS. Una volta fatto devi andare su settings oppure puoi cercare direttamente nella barra della ricerca in alto a destra. Proprio qua. E cerchi direttamente il security boot. Ok, security? Eccolo qua. A me è Enable. Quindi in questo caso è abilitato. Se a te è su Disable tu clicchi direttamente Enable. Eccolo qua. E lo abiliti senza nessun problema. Poi riguardo a quest'altra modalità tu metti direttamente Custom. Una volta fatto vai su Settings, Security, Trusted Computing, scendi fino a giù fino a trovare il TPM State. Eccolo qua. Questo qua è del TPM 2.0. A me c'era scritto che era disabilitato e l'ho abilitato senza nessun problema. Quindi abilitato il tuo TPM 2.0 e per salvare tutta questa configurazione premi il tasto F10 e salvi così la configurazione. Una volta fatto avrai così il servizio VGC qua dentro. Abbiamo completato questi tre passaggi. Ora l'ultimo passaggio è su Valorant Service Ottimizzazione. Quindi quello che ti resta da fare è andare su Valorant, apri percorso file. Quindi andiamo direttamente nella cartella di Valorant ed eccolo qua. Questo qua è del Riot Client. Ok? Riot Client. Faremo direttamente questo servizio sul programma Riot, proprietà, compatibilità. Esegui questo programma come amministratore, disabilito, ottimizzazione, schermo intero. Oppure se non dovesse andare esegui il programma in modalità compatibilità Windows 8. Esegui il programma in modalità compatibilità per Windows 8. Li puoi provare tutti e vedere se funziona. Ovviamente a me funziona anche senza questo. Disabilito l'ottimizzazione, schermo intero e faccio applica e faccio ok. Questo qua è del Riot Client Service. Quindi per altri problemi ti consiglio di guardare quella guida che ti ho fatto vedere in questo video. Come risolvere il codice error 1067 su Windows 11 più Segui Reboot più TBM 2.0 su Valorant. Quindi questa qua è una guida più aggiornata e funziona anche oggi. Quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere il problema al VGC TBM 2.0, errore 1067, Segui Reboot e valori riguardo ai servizi di ottimizzazione su Valorant. Iscriviti, lascia like, per altri problemi commenta sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.